le emozioni condizionano le nostre scelte le nostre azioni in una parola la nostra vita quotidiana e questo è sicuramente tanto più vero per i giovani per i quali le emozioni spesso sono totalizzanti e vissute in maniera molto molto più forte e le emozioni dobbiamo imparare a gestirle dobbiamo imparare riconoscerle perché tutte le emozioni sia quelle positive che quelle negative hanno una funzione e quindi allenarsi a capire se stessi ci aiuterà anche nei rapporti con gli altri ci aiuterà nella vita quotidiana ma è anche una competenza che ci permetterà di migliorare le nostre attività a scuola le nostre attività nel mondo del lavoro in una parola tutta la nostra vita è per questo motivo che abbiamo deciso di riproporre questa esperienza visto i buoni risultati della prima volta come ci hanno riferito i giovani che hanno partecipato